Formazione ai lavoratori, investimenti salvavita e rafforzamento degli Spisal. C'è questo e molto altro nella piattaforma per la sicurezza sul lavoro che CGL e Cisle Will consegneranno al presidente della regione Luca Zaia, alle istituzioni preposte e alle associazioni datoriali del Veneto. Sabato a Padova una manifestazione regionale sul tema. Non è possibile, osservano i sindacati, che gli Spisal controllino il 5% delle aziende venete ogni anno, in linea teorica, chi riceve la visita oggi potrebbe accogliere di nuovo gli ispettori tra 20 anni. Il punto centrale fatti della nostra piattaforma per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro da qui in avanti sarà sicuramente quello di aumentare i controlli, di dare maggiore agibilità agli Spisal, effettivamente di poter verificare le condizioni di lavoro nei cantieri, nelle fabbriche e è per questo che il punto cardine della nostra proposta come CGL e Cisle Will nel Veneto è quello di aumentare la dotazione degli ispettori. Quello che lo Spisal raccoglie in multe può essere reinvestito in progetti per la sicurezza. So che come prima risposta l'assessore Coletto ci ha già detto che potremmo avere maggiori ispettori se utilizzassimo questi soldi. Io personalmente sono contrario, direi che devono essere mantenuti questi soldi per progetti mirati. Si pensa anche a un albo dei responsabili della sicurezza. Questo ci dà la possibilità anche di dare un ruolo più importante di quello che la contrattazione nei luoghi di lavoro dà. Riconoscere il ruolo dell'RLS diventa importante anche fuori dall'azienda, oltre che in azienda naturalmente, perché noi quando parliamo di sicurezza la intendiamo veramente a 360 gradi. Nei luoghi di lavoro significa non solo fare investimenti sui macchinari, che è cosa fondamentale a parte dell'azienda, ma anche seguire le procedure corrette, perché a volte gli infortuni accadono perché non si seguono le procedure.